Allora, allora, 17 marzo 2012, benvenuti alla festa delle scuole! A questo episodio l'avvento, direttamente dal Corso del Sistema di Bonza, direttamente dal Corso del Certo, trinti eventi al piacere di avere qui alla sua sinistra, Mister Alessandro Campionella! Sistema di Bonza, Mister Alessandro Campionella! Sistema di Bonza, Mister Alessandro Campionella! Sistema di Bonza, Mister Alessandro Campionella! Il giustamento speciale ai ragazzi di Kid Maestro, il giustamento speciale ai ragazzi di Astorutma! A questo, il giustario, con la vengu! Sistema di Bonza, Mister Alessandro Campionella! Vorrei tutto l'applauso della poema di Astorutma! Sistema di Bonza, Mister Alessandro Campionella! Sistema di Bonza, la vengu! Sistema di Bonza! Sistema di Bonza! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.